Dopo la prima delle regate di campionato Vento d'Algher 2019, organizzato la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto d'Alghero, a guidare le classifiche ORC Sono Vitamina di Antonello Caso nella categoria Gran Crociera e Corto Maltese di Maurizio Sabia nella categoria Crociera Regata. Il trofeo Honda Blu, nono memoria Marco Caula, in programma domani, non avranno gioco facile a confermare il proprio primato, pressati da vicino da concorrenti come Surprise di Marco Spano e l'Alzaluna di Brunello Desi. In gioco c'è anche la posizione della Ranking List per la missione al campionato zonale ORC 2019, seconda zona FIV. Sono dunque presenti tutti gli ingredienti necessari per rendere le contese importanti, le prove che il comitato di regata traccerà davanti al bastione di Alghero, in condizioni meteo previste, divento moderato. Molta vincente è partecipata alla sfida nuova veleggiata della Ranking FIV lanciata dalla Federazione Italiana della Vela per promuovere la partecipazione delle regate a vela d'altura. Dopo la prima giornata guidano la classifica di questa classe speciale D'Atenandi di Stefano Macciocco, Mauan di Giuseppe Desi e Daydream di Carmelo Murgia. Su D'Atenandi saranno imbarcati gli studenti dell'Iceo Azuni che parteciperanno al progetto Mariniamo la Scuola. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza alle boe a mezzogiorno di domenica 19. In serata alle 19 la premiazione in sede.